Siamo con il dottor Manfredi di Generali Gestioni Immobiliari che è il proprietario di questo immobile che in questo momento rappresenta un esempio più che positivo di come si possono valorizzare degli immobili in un momento di mercato certamente non facile. Qual è la storia di questa nuova sede Oracle? Intanto l'immobile è diventato di proprietà del Fondo Scarlatti che è uno dei fondi che il gruppo generale ha promosso tramite l'SGR Generali Immobiliari Italia ed è stato apportato ad un fondo che ha una redditività di medio-lungo termine proprio perché si è concluso un processo di valorizzazione di questo immobile che direi è abbastanza da manuale. Questo immobile era occupato fino al 2006, estate del 2006, da Aster che è una società impiantistica e di installazioni e di manutenzione e quindi liberandolo interamente si pose il problema di che cosa fare di questo immobile. Abbiamo pensato di fare un concorso di progettazione avendo un'idea di mantenere la destinazione ad uffici. Abbiamo convocato e invitato alcuni studi tra i maggiori che operavano sulla piazza nazionale e abbiamo poi aggiudicato questo concorso a DGW il quale aveva individuato la possibilità di valorizzare ben 1100 metri quadrati in più portandoli da delle destinazioni non pregiate da un punto di vista economico a un utilizzo ad uffici in modo totale. Quindi abbiamo immediatamente incaricato un broker avendo avuto questa idea chiara, portante di puntare su un monotenante, quindi su un quartier generale per una grossa multinazionale che potesse usare tutti i vantaggi della competitività sui costi e delle infrastrutture che ci sono nella zona. Cinisello Balsamo soffriva un poco del fatto che non era comune di Milano ma in realtà noi crediamo molto in questa zona dove peraltro il fondo Scarlatti ha molti altri immobili quasi tutti affittati, il vacancy è intorno al 2-3%. Abbiamo individuato un broker, anche questo attraverso una selezione, che si bia Richard Ellis e quindi siamo approdati a Oracle che ha creduto anche lei in questo progetto proprio perché ha visto già da subito delle idee chiare e una partnership molto forte tra la committenza che è stata molto presente anche nei dettagli operativi e i progettisti. A questo punto abbiamo lavorato molto, quasi sei mesi prima di arrivare a chiudere il contratto, ma a questo punto era chiuso in tutti i suoi aspetti, sono partiti i lavori e a agosto 2008, così come avevamo programmato, abbiamo consegnato l'immobile a Oracle. Oracle ha poi personalizzato, arredato e attrezzato l'immobile nel modo meraviglioso che forse gli spettatori ora non riescono a vedere, ma veramente possiamo testimoniare quanto è funzionale in circa 4 mesi consegnando gli uffici ai dipendenti a partire da gennaio. Quanto avete investito in questa operazione e che tipo di contratto di locazione avete con Oracle? Noi abbiamo investito alcuni milioni di euro, questo è un palazzo da più di 10 mila metri quadrati, abbiamo versato oneri concessori al comune di Cinisello per circa un milione di euro, quindi l'intervento è stato abbastanza significativo. La reddittività, proprio perché è nel fondo, è una reddittività importante, diciamo intorno a quello che è il cap rate della zona, quindi siamo intorno al 7% e quindi direi che è un investimento sicuramente di grande soddisfazione per la proprietà. Come vede questo momento di mercato? Bisogna tornare per grossi gruppi come voi, uno dei pochi che è rimasto in Italia a fare veramente gestione di un portafoglio immobiliare, lavorare su questo tipo di immobili in un momento in cui di nuovi sviluppi se ne fanno abbastanza pochi nel settore uffici? Questo investimento, perché questo dove ci troviamo è stato un vero e proprio investimento su un immobile già esistente, faceva parte di una strategia e continua a far parte di una strategia molto forte che Generali ha deciso di perseguire negli anni in cui i prezzi schizzavano a due cifre da un anno all'altro. Ha deciso di investire alcune centinaia di milioni di Euro nel mettere a posto i propri immobili, ricordo solo che il patrimonio in Italia di Generali è intorno a 8 miliardi e mezzo. Quindi questa scelta sicuramente è una scelta che paga. Oggi è un momento di mercato molto complicato, locazioni di questo genere possono continuare ad essere portate avanti, bisogna portarlo avanti con prudenza evitando di anticipare degli investimenti a fronte di ritorni non sicuri. è indubbio che una dose di rischio il proprietario deve prendersela perché se non crede, questo perlomeno è la convinzione nostra, se non è la proprietà stessa che dimostra di credere nel prodotto, è abbastanza difficile che il conduttore, in particolare in questo momento in cui ha più offerte, magari anche più competitive perché noi non abbiamo intenzione ovviamente di derogare sui ritorni dell'investimento, può andare in altre proprietà. Quindi è un momento delicato ma credo che questo tipo di strategia di valorizzare il patrimonio esistente sia una strategia che paga. Non è detto che tutte le volte si possa fare un quartier generale di una grossa multinazionale ma un edificio multitenant, anzi per certi aspetti può anche arrivare a ripartire il rischio di un eventuale momento non particolarmente felice per l'economia.